amici dei siamo qua con raffaele cinque grana di lg italia che ci fa vedere il nuovo optimus 7 quindi il primo telefono di lg con windows phone 7 sistema operativo che è stato presentato oggi da microsoft in contemporanea mondiale un telefono completamente nuovo si cambiamo completamente il modo di approcciare il nostro smartphone perché non abbiamo più un telefono che è basato su delle applicazioni ma è un telefono che mette tutto quello di cui hai bisogno soltanto sulla tua home screen è il menu start completamente rivisitato che permette innanzitutto di essere customizzato come vogliamo quindi questi tasselli che vedete mattonelline che spostiamo si possono spostare per esempio facciamo finta che il mio xbox live lo voglio portare un po più in evidenza quindi lo voglio mettere un po più in alto lo possiamo spostare come vogliamo piuttosto che magari lo possiamo portarlo dentro perché dall'altra parte vediamo che qua destra c'è tutta la destra delle applicazioni disponibili esatto quindi se io lo voglio rimettere in home screen semplicemente tengo premuto clicco su aggiungi a start e lui me lo mette in coda alla mia home screen un home screen che tra l'altro come vedete è anche animata quindi non è un home screen statica fatta di applicazioni con le loro iconcine ma per esempio nella parte dei contatti che rappresenta la nostra rubrica vedo già i contatti che le fotografie dei contatti che ho su facebook su windows live oppure che ho semplicemente sincronizzato con exchange vedo per esempio le nuove mail che ho ricevuto su questa casella di posta per esempio oppure vedo il mio profilo che mi fa vedere automaticamente che cosa ho scritto ultimamente e poi alterna anche la fotografia ogni bottone diciamo è attivo quindi ogni bottone anziché essere una semplice tasto icona per lasciare un'applicazione è attiva da dei feedback sì 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 quindi il market ci darà cosa c'è da aggiornare automaticamente quindi il calendario ci dice appunto che adesso siamo sui day quindi gli appuntamenti che abbiamo quindi un approccio con attenti diverso quindi ogni icona ci restituisce lo stato del telefono quindi chiamate perse, messaggi ricevuti, email ricevute, aggiornamento contatti esatto questa è proprio una nuova concezione nata dal fatto che bisogna avere effettivamente quello che ci serve sempre sotto mano dobbiamo evitare di entrare e uscire dai menu in maniera continua soltanto per andare a controllare che ne so l'ultimo stato su facebook oppure l'ultimo email io devo avere sempre sotto mano quello che riguarda la mia vita di tutti i giorni e se per esempio nella mia vita di tutti i giorni l'email è molto importante io mi metto tutti i miei account nella parte alta se non mi servono li tolgo direttamente è inutile che mi ritenga lì a confondermi tutto quanto il menu stessa cosa se ho bisogno per esempio di tenermi sempre a portata di mano un mio contatto io semplicemente clicco sul contatto stesso e posso decidere di aggiungerlo direttamente al menu start perché cosa almeno ce l'ho sempre a portata di mano e si aggiorna automaticamente secondo lui se lui cambia la foto del profilo su facebook esatto è sempre sincronizzato si aggiorna quindi esattamente infatti una delle migliorie importanti su windows phone 7 è proprio il lab contatti che non è semplicemente una rubrica quindi io vedo sicuramente tutta la mia lista di contatti e quant'altro ma è soprattutto un contenitore praticamente dei miei social network in questo caso di facebook e di windows live infatti io scorro in alto e in basso la mia rubrica ma se vado anche soltanto a destra col dito vedo tutte le novità che ci sono su che riguardano i miei amici riguardano me stesso che hanno pubblicato su windows o su facebook quindi automaticamente riceviamo che per esempio i contatti, le chat messenger cioè sono contatti online su messenger automaticamente al lancio windows live messenger sarà disponibile come applicazione scaricabile quindi dobbiamo vedere un po' come sarà l'integrazione a livello di rubrica però ti posso dire che per quanto riguarda windows live e facebook vedo tutti quanti gli aggiornamenti e soprattutto se voglio commentare aggiungere un commento a uno stato lo faccio direttamente dalla rubrica questo sulla rubrica e anche sulle foto ovviamente e anche sulle foto sincronizzano col cloud quindi possiamo commentare mi piace o non mi piace quindi vediamo solamente le foto scattate da noi ma anche quelle che arrivano da facebook, dalla rete queste sono tutte le ultime fotografie che sono state pubblicate dagli amici che abbiamo sul nostro account e una volta che clicco sulla fotografia la vedo direttamente posso anche ingrandirla con il classico pinch zoom a due dita e se voglio posso anche commentare in maniera molto immediata e vedo anche tutto il resto dei commenti che ci sono una cosa sull'interfaccia posso anche avere coloro ovviamente personalizzabile per colori, sfondo e tutto ma è velocissima assolutamente ho provato e effettivamente il feedback è è una cosa che proprio si vede a occhio il display è un display da 3,8 pollici capacitivo quindi appunto ci permette di allargare e stringere le foto con le due dita ma soprattutto è molto molto reattivo sì è una cosa cioè proprio immediato tutto cioè mai un ritardo fluidissimo su tutto quindi è una cosa che si vede per esempio anche dalle pagine web se io entro nel browser e vado a vedere per esempio D-Day ok posso ingrandirla e chiuderla vedete che è molto molto veloce se giro il telefono ovviamente la pagina si orienta anche con un'animazione molto carina è un'esperienza web, un'esperienza in generale di usabilità molto 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 evoluta ed è una cosa che effettivamente ci voleva nel mercato della telefonia il browser non ha ancora flash il browser non ha ancora flash però ovviamente il sistema è aggiornabile quindi sì 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 ci possiamo aspettare che magari in futuro venga supportato tra flash un'altra cosa interessante proprio tornando al discorso dell'usabilità e il discorso magari di utilizzare il telefono anche per lavoro se abbiamo la nostra email in questo caso la sincronizzazione con Gmail che è scomparsa da qua me la vado a pescare nel menu quindi la aggiungo a start vedete tutto molto semplice vado a vedere Gmail ho un'esperienza d'uso anche qui molto molto veloce vedo direttamente tutte le mail da leggere che sono contrassegnate in rosso ma se voglio filtrarle basta che striscio col dito a destra e vedo soltanto quelle da leggere striscio un'altra volta vedo soltanto quelle contrassegnate striscio ancora una volta vedo quelle urgenti sì il fatto di contrassegnare la mail urgente è una delle cose che manca probabilmente in altri in altri in altri telefoni perché di solito leggiamo la mail sullo smartphone poi diciamo dobbiamo rispondere a contrassegnare in ufficio in ufficio la sincronizziamo non è contrassegnate ci ricordiamo di rispondere esatto e la cosa bella è che ovviamente essendo un telefono Windows Windows Phone si sincronizza con Exchange senza alcun tipo di problema sincronizza mail sincronizza contatti sincronizza calendario stessa cosa anche per Gmail e per la posta di Hotmail il telefono poi in generale è un telefono di di alto livello è dotato di un processore da 1 GHz che ovviamente permette questo genere di interfaccia Snapdragon 16 GB di memoria interna abbiamo poi la connettività HSDPA HSUPA 5.7 e anche il Wi-Fi in banda N naturalmente non manca il GPS e che altro per quanto riguarda la parte multimediale sul retro c'è una fotocamera da 5 megapixel che registra video in HD a 720p con anche la possibilità di registrarli in formato panoramico 16 noni e poi scatta anche fotografie con riconoscimento automatico della scena oppure foto panoramiche poi integra ovviamente Office quindi integra Office perché fa parte di Microsoft integra Zoom come la parte player multimediale audio video sì magari qui vale la pena far vedere l'hub in questo caso alla radio alla radio sì torniamo indietro abbiamo la possibilità di accedere a musica video ma anche al marketplace di Zoom dove ci sono oltre 6 milioni di brani e la cosa bella è che anche qui posso acquistare tutti i brani che voglio ma soprattutto prima di acquistarli posso fare un pre-listen di 30 secondi e quindi è una cosa che ci aiuta magari prima dell'acquisto ci sarà poi la possibilità di acquistare lo Zoom Pass che sarà un abbonamento diciamo mensile che ti permette di scaricare tutte le canzoni che vuoi con una flat e che quindi dà la possibilità effettivamente di godersi questi 6 milioni di brani poi ovviamente tutti i servizi che verranno aggiunti li vedremo con Microsoft nella conferenza stampa appunto di oggi quindi ci sarà un articolo dedicato proprio su di dei online dopodiché un'altra funzione che abbiamo aggiunto e che non si trova normalmente su Windows Phone 7 è quello che chiamiamo Scan Search è un client di realtà aumentata che permette quindi di mappare i punti di interesse che ci sono in questo caso nel raggio di 5 km il raggio è modificabile ok per esempio adesso abbiamo filtrato i ristoranti se vogliamo filtrare magari i pub o gli alberghi o cose del genere possiamo selezionare diciamo che rimaniamo sui ristoranti e vediamo mappati adesso fa la ricerca giriamo un attimino così troviamo un ristorante vicino ecco qua da questa parte in teoria c'è un ristorante io ci clicco sopra e vedo direttamente i dati posso poi condividere questi dati con Twitter, Facebook oppure mapparli su una mappa e poi se oriento il telefono verso l'alto mi fa vedere direttamente le previsioni del tempo se invece lo oriento verso il basso mi fa vedere i punti di interesse che sono intorno a me praticamente non soltanto mappati sulla fotocamera questa è una delle novità che abbiamo integrato su Windows Phone ovviamente ecco una cosa che ci stavamo dimenticando Xbox Live possiamo entrare con il nostro profilo di Xbox Live vedere i nostri achievement invitare gli amici l'avatar ovviamente che abbiamo realizzato che è sincronizzato scaricare giochi che saranno poi in alta definizione ci sono in lancio circa dai 50 ai 70 giochi dove figurano nomi come Crackdown 2 e come Holloway Point e quindi si possono scaricare giochi ci sarà anche la possibilità di giocare a turni ma di giocare online quindi per il primo periodo giocare il gioco online sarà a turni che altro possiamo dire su Windows Phone 7? mi sembra che sia un telefono veramente molto completo un telefono completamente diverso da quello che siamo abituati a vedere quindi personalizzabile completamente customizzabile secondo le esigenze dell'utente quindi l'utente si può creare la propria interfaccia come la vuole può addirittura togliere la parte telefonica si si se non gli serve se non serve può addirittura togliere il telefono quindi può fare veramente di tutto con questo telefono qua e il bello è che cliccando il tasto principale ci troviamo di fronte esattamente a quello che dobbiamo sapere quindi messaggi ricevuti chiamate perse mail arrivate cosa hanno fatto i nostri contatti quindi tutto veramente a porta di mano senza bisogno di andare nelle singole applicazioni e vedere cosa è successo perché riceviamo una piccola icona di notifica qui vediamo esattamente quello che è successo e lo possiamo capire al volo una cosa importante anche sui aggiornamenti sappiamo che il più grosso problema di Android sono gli aggiornamenti ovvero quando esce una barra release i produttori aspettano molto per dire la Shara perché devono fare gli adeguamenti sul proprio telefono qui invece va tutto a blocchi si è un software modulare quindi nel momento in cui c'è un modulo che si può aggiornare l'aggiornamento verrà automaticamente notificato all'utente finale che dovrà semplicemente collegare il telefono al pc dopodiché il pc tramite il software di Zoom farà un backup di tutti i suoi dati e poi provvederà all'aggiornamento rimane da dire mi immagino anche e da fugare i dubbi relativamente al posizionamento di prezzo di Optimus 7 perché abbiamo visto un'interfaccia molto veloce un menu customizzabile delle caratteristiche di altissimo livello una batteria che dura un giorno come gli altri smartphone diciamolo perché comunque da 1500 mAh sostituibile però perché come tutte le batterie di telefono LG possiamo toglierla tranquillamente quindi possiamo cambiarla vediamo sim normale sim normale non è una mini sim quindi fughiamo assolutamente qualsiasi dubbio non parliamo di un telefono da 600-700 euro parliamo di un telefono che verrà messo in vendita a partire dal 21 di ottobre quindi dal day one a 399 euro ah però questa è una grande news non lo so nemmeno noi ok perfetto grazie Raffaele grazie a voi è stato un piacere grazie a voi